ecco diavolo la strappa dentro vai che non volevo che me la chiedessi dentro se si abbassa me la chiede dentro poi la tiriamo qua di più vai è tagliata via quasi tutta cacchio è attaccato di mezzo centimetro neanche figaro una tovaglia c'è dentro questa magari a Spampi che fa il compleanno oggi gli serve osti è vero è che qua questo è impossibile facciamo vedere che tiriamo via dall'alzato figaro questo pesa questo era pesante no è che se sono pezzetti poi va via effettivamente ma se sono lunghi così non riesci più a farli andare via e anche se tagliamo quello secondo me non serve a niente è quello che ha fermato tutto qua quando veniamo giù con quell'altra la tagliamo lì che almeno porta al limite rimane solo il pezzo e basta almeno non sarebbe bello che hai caricato in macchina e poi lo puoi fare si ma ti davo in giù fino a chi è pepera non c'è vicinanza grazie a tutti